Quale fu il ruolo degli angeli nei momenti precedenti la resurrezione di Gesù? Te lo sei mai chiesto? I Vangeli, infatti, quasi non ne parlano, ma le visioni della beata Anna Caterina Emerick, come pennellate di luce su una tale invisibile, dipingono un affresco più dettagliato e commovente. È di questo che ti parlerò oggi. Buongiorno, mi chiamo Samuele Maniscalco, benvenuto nel canale, i angeli sono con noi. Nella puntata di sabato ti ho detto che non sappiamo se gli angeli fossero presenti al momento della resurrezione, ma che sì, sappiamo con certezza che ne furono i primi eraldi. Questo è infatti quanto ci raccontano gli evangelisti. Se però andiamo a leggere le visioni della beata Anna Caterina Emerick, ci rendiamo conto che la presenza e l'azione degli spiriti celesti in quei drammatici frangenti fu ben più attiva sia prima che dopo. Te ne leggerò alcuni passaggi significativi, così potrai valutare tu stesso. Ma prima di procedere, vorrei chiederti, se non l'hai ancora fatto, di cliccare sul pulsante iscriviti e di attivare la campanella. In questo modo sarai automaticamente informato sui video futuri e non ti perderai nessun episodio di questo apostolato. E per non dimenticarlo, metti già ora un mi piace per rendere questo video virale. Ti ringrazio. Ora, come sai, Gesù muore alle tre del pomeriggio del venerdì. Successivamente, Giuseppe di Arimatea si reca ad Apilato e ne domanda il corpo, e questi glielo concede. Quando poi, insieme a Nicodemo, depone il Signore della Croce, il tramonto è ormai imminente e con esso l'inizio del riposo sabbatico. Perciò, per fare presto, il corpo viene collocato in un sepolcro lì vicino. A questo punto, e qui riassumo, la Emmerich ci informa che Nicodemo e Giuseppe, rientrati in città, vanno alla ricerca degli apostoli e dei discepoli dispersi per indirizzarli verso il Cenacolo. Giuseppe di Arimatea, però, viene improvvisamente arrestato. Caifa, infatti, aveva progettato di farlo morire di fame senza che nessuno ne sapesse nulla. Terribile. Raccontala Emmerich. Vidi Giuseppe in prigione. Mentre era assorto in preghiera, il carcere fu inondato di luce e una voce lo chiamò per nome. Allora il tetto si sollevò e attraverso l'apertura una forma luminosa lasciò pendere un lenzuolo simile al sudario in cui egli aveva sepolto Gesù. Giuseppe si arrampicò a questo lenzuolo miracoloso e si dileguò verso il Cenacolo. Non vidi, aggiunge la Beata, se fu il Salvatore stesso a liberarlo oppure un angelo. La Emmerich non sa dircelo con certezza. Però a me questo episodio ha ricordato molto la liberazione di San Pietro dalla prigionia e lì il Santo Vangelo dice espressamente che fu opera di uno spirito celeste. Non trovi anche tu delle similitudini? Cosa ne pensi? Dimmelo nei commenti. Comunque sia, tornando alla questione iniziale, e cioè se al momento della risurrezione gli angeli fossero presenti o meno, cosa possiamo rispondere? Leggo ancora. Quando il mio pensiero, dice la Emmerich, si univa a quello della Madre di Dio, vedevo il Santo Sepolcro e, attraverso le porte del Medesimo, il corpo del Signore e il modo in cui era stato deposto. E ascolta bene, lo vidi circondato da un'aureola luminosa e aveva accanto a lui due angeli in perenne adorazione. Eccoci arrivati al punto. Perché se erano lì in adorazione, cosa di per sé molto logica, è più che lecito pensare che fossero lì anche al momento della risurrezione. Non ti pare? Ma andiamo per ordine, perché la Emmerich fa altre rivelazioni importanti. Conclusosi infatti lo Shabbat, la cui durata temporale non coincide con l'intera giornata del sabato, la Madonna, mentre pregava solitaria nel Cenacolo, fu presa dal desiderio di vedere suo figlio, che ancora non era risorto. Questo suo ardente desiderio, un desiderio materno, che solo le donne, le mamme, possono capire fino in fondo, giunse evidentemente fino al cielo. Le comparve infatti un angelo, che le indicò dove recarsi, perché il Signore era vicino. Col cuore palpitante di gioia, come puoi ben immaginare, la madre del Salvatore si avvolse nel suo mantello e uscì senza far parola con alcuno. Erano circa le ventuno, e la Santa Vergine, prossima al luogo indicato, si fermò a guardare in alto sopra le mura della città. Vide allora scendere dal cielo in un fascio luminoso l'anima del Salvatore, accompagnata da numerose anime dei patriarchi. Mi parve, dice la Beata Emerich, che il Salvatore abbracciasse per un istante sua madre. Subito dopo, il fascio luminoso scomparve con tutte le anime. Allora la madre di Dio cadde in ginocchio e baciò la terra dove egli era apparso. Fortificata da questa apparizione, Maria ritornò piena di consolazione dalle piedonne, che trovò occupate a preparare unguenti ed aromi, perché volevano servirse nel giorno seguente, prima dell'alba, per coprire il santo corpo del Signore. Ora, erano quasi le undici di notte quando la Madonna, spinta dall'amore e da un desiderio resistibile, si alzò, si avvolse nuovamente nel suo mantello e, sola, si allontanò da casa. si diresse prima al palazzo di Caefa, poi a quello di Pilato. Per far questo dovette attraversare una gran parte della città. Così si trovò a percorrere le vie deserte della Via Crucis, fermandosi ad ogni punto dove il Salvatore aveva sofferto qualcosa e sopportato qualche oltraggio. Infine, giunse al Calvario e, mentre vi si avvicinava, di fronte a lei apparve nostro Signore preceduto da uno spirito celeste e fiancheggiato dagli angeli del sepolcro. Ma non finisce qui. Gesù, infatti, le annunciò che stava per risuscitare e le disse di attenderlo accanto al luogo della sepoltura. Allora la Vergine andò ad inginocchiarsi al posto indicatole. Ed ecco il momento cruciale. Narra la Emmerich. Vidi il corpo del Signore risplendere nel suo sudario con i due angeli in adorazione alla testa ed ai piedi di Lui. Dunque, sì, gli angeli erano presenti nel momento culmine della nostra redenzione. Erano lì e non poteva essere altrimenti. Subito dopo, prosegue la Beata, vedi il Salvatore risorto, meravigliosamente bello e sfolgorante di luce, apparire a sua madre. Gesù le mostrò le piaghe e siccome lei si prostrava per baciare i piedi, la prese per mano, la rialzò e disparve. Poco dopo sarebbero arrivate infatti le piedonne e, come sapete, l'annunzio pasquale dell'angelo descritto nel Santo Vangelo. Come vedi, la presenza e l'azione angelica prima e durante la resurrezione è molto più attiva di quanto potessi immaginare. Certo, le visioni della Emery che non sono dogma di fede, eppure ci offrono una chiave di lettura suggestiva e ricca di spunti di riflessione. Le sue parole ci invitano a contemplare la bellezza e la potenza divina che si manifestano attraverso l'opera dei santi angeli. Personalmente credo che particolari del genere siano molto importanti per comprendere appieno il ruolo che la divina provvidenza ha affidato agli spiriti celesti. Perché conoscere sempre più a fondo quale sia la loro funzione ci fortifica e ci dà speranza nelle battaglie che quotidianamente combattiamo contro le nostre passioni disordinate e contro i figli delle tenebre. E' questa in fondo la missione centrale del canale che non potrebbe esistere senza la generosità di voi tutti e in special modo dei membri del gruppo Apostoli dei Santi Angeli. Se vuoi anche tu puoi farne parte. si tratta di un gruppo specifico composto da persone che credono nell'importanza di sostenere ed espandere sempre più questo apostolato contribuendo con una donazione mensile a seconda delle proprie possibilità. Nel corso dell'anno diverse sante messe sono celebrate nelle intenzioni di tutti i membri. Si tratta di una santa messa a settimana per un anno intero. ci sono anche alcuni benefici materiali che si ricevono a casa come un certificato di appartenenza stampe medaglie libri eccetera. Inoltre le intenzioni di preghiera di ciascun membro sono portate nei principali santuari cattolici del mondo in special modo quelli legati a San Michele Arcangelo. Se non fai ancora parte di questo gruppo clicca sul primo link che trovi in descrizione o nel primo commento in evidenza. Ti si aprirà una pagina dove troverai informazioni utili per sapere come entrarvi. Più persone come te sosterranno il canale più potremo espandere il profumo della fede con l'aiuto dei Santi Angeli. Spero che quanto ti ho raccontato oggi possa esserti di giovamento spirituale così come lo è stato per me. Se sì non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e parenti per dare maggiore visibilità a questa puntata. Come sempre chiedo e prometto preghiere se il Signore vuole ci vediamo sabato. Che Dio ti benedica. che Dio mi 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 Grazie a tutti.